Dopo 40 anni di abbandono, la Pineta, che circonda l'ex ospedale Rocco Larussa, torna ad essere curata. L'impegno, assunto dal presidente della regione nell'Omus Meci, nel corso di un sopralluogo fatto mercoledì, è stato mantenuto. Ieri mattina gli operai dell'ESA, l'ente di sviluppo agricolo, si sono messi al lavoro per potare gli alberi e pulire il sottobosco dalle serpaglie. La Pineta si estende per circa 6 ettari e costituisce uno degli ultimi polmoni verdi rimasti nella montagna di Erice, con vialetti interni e un panorama mozzafiato sulle saline. Mus Meci ha tenuto a ringraziare il presidente dell'ESA, Giuseppe Catania, per avere subito aderito al suo invito, in una logica di leale collaborazione tra le istituzioni. Il governatore punta a rendere fruibile la Pineta già dalla prossima estate. A giorni convocherà poi un vertice per definire la sorte dell'ex sanatorio, assicurando l'impegno per recuperare l'immobile e restituirlo al territorio nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti.